Ancora una volta mi tocca parlare di questo stranissimo esame. Questo stranissimo esame trattasi di un marker fondamentale riconosciuto come uno degli esami più importanti per la valutazione non solo del sistema cardiovascolare ma di molti altri organi. Questo esame, sconosciuto e più tanto che a volte persino i laboratori non sanno di che cosa stiamo parlando, è davvero un esame oramai riconosciuto fondamentale. Questo esame è lo stress ossidativo. Se ne sente parlare, se ne è sentito parlare, se ne parlava in ambito estetico, ora se ne parla in ambito biochimico, metabolico e ematochimico fondamentale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Quando non si conosce un argomento purtroppo si evita di approfondire e quindi molti operatori sanitari tralasciano questo importante marker perché non ne sono perfettamente a conoscenza. Basta andare su PubMed e fare una ricerca molto semplice e vedere ad esempio in riferimento alle patologie che io tratto quanto è correlato lo stress ossidativo in riferimento al rischio di malattie cardiovascolari. Basta fare questo per aggiornarsi e per vedere che effettivamente lo stress ossidativo è un marker di valutazione cardiovascolare fondamentale. Si analizzano semplicemente i radicali liberi, specie reattive dell'ossigeno, che vengono normalmente prodotti nel nostro organismo a causa del fatto semplice che viviamo, ma in alcune condizioni questi radicali liberi possono essere aumentati. Inoltre si valuta, sto dicendo molto semplicemente, il potere biologico antiossidante del nostro organismo, per fortuna, di arginare l'entità dei radicali liberi, di limitarli, di contrastarli, evitando che i radicali liberi possano creare danni. Perché? I radicali liberi sono delle molecole instabili, atomi e molecole instabili, che ricercano dannatamente la stabilità attraverso una performance di elettroni, neutroni, eccetera, elettroni, cercano di destabilizzare altri atomi e altre molecole degli organi che noi abbiamo. E un organo bersaglio fondamentale, purtroppo, per i radicali liberi, è il tessuto epiteliale interno del rivestimento delle arterie, non solo, di tutti i vasi, endotelio. Questi radicali liberi, se in eccesso, rispetto al potere biologico antiossidante, fanno continuamente dei danni alla parete, non solo alla parete dell'arteria, ma molti altri danni. Ma tra tutti i danni principali è una lesione fisica, anatomica, dell'endotelio. L'endotelio, che è il rivestimento interno dell'arteria, ne ho parlato in centomila video, si danneggia e questo è uno degli incipit dell'inizio della formazione della placca. L'abbiamo scoperto ancora 60 anni fa, questo. Cioè, ancora 50 anni fa abbiamo scoperto che la malattia dell'endotelio, disfunzione endoteliale, è la causa, è l'inizio dell'aterosclerosi. Quindi stress ossidativo quando il potere biologico antiossidante del nostro organismo non è più in grado di contrastare l'eccesso di radicali liberi. Poi, perché questo sia diminuito, cioè il potere biologico antiossidante, e perché i radicali liberi siano aumentati, è davvero da ricercare. Cioè, c'è una serie di cause che possono determinare questo. E ovviamente non posso parlarne qui perché sennò non finiremo più. Sta di fatto, concludendo, lo stress ossidativo è ormai accettato come marker di rischio cardiovascolare. Quindi, eseguitelo, fatelo. Se siete degli operatori sanitari mi state ascoltando, se siete dei pazienti chiedetelo. Se non si sa che cosa sia nei laboratori, spiegatelo anche voi, diffondiamo questo concetto. Insomma, dobbiamo utilizzare tutti i mezzi, gli strumenti, i marker più importanti per valutare il rischio cardiovascolare, ben oltre ormai l'obsoleto colesterolo totale. Buona giornata.